Ciao, ciao Luca! Ammazza quanto siete belli, però... Lei c'è tutte le fortuna della sua! Eccola qua! Che fa? Le fa un inchino o le fa un applauso? Un applauso! Esatto! No, ma di testa! Ma di testa! Ma di testa! Ma di testa! Ma no, muore! Ma no, muore! Si, muore! Muore! Lorina, lei intimidita, si rannocchia tutta la sua! Si, si rannocchia! Si rannocchia! Si rannocchia tutta i piedi! Eh? Eh? E' la seconda cosa? No, cosiddetto... No, il massaggino! No, il massaggino! Il massaggino! Il massaggino! emigrissante! Brava, astronautina! Esatto, esatto! Straordinariamente lungo? A che domande facciamo? Il tapiro è dotato di questo cosone straordinariamente lungo E a cui vuoi ricorrere per fare cosa? Ah, andate a tutti i fianchi Esatto signora, giusto? Non sono il tapiro, vada forse Mi dica stop Questo? Questo l'ero raddoppia 30.000 diventano 60.000 Non è ancora scusciente ma la scala è iniziata Manarolo o piedarolo? Piedarolo No, ho sbagliato, ciao Ecco, è il manarolo Non è ancora scusciente ma la scala è iniziata Non è ancora scusciente ma la scala è iniziata